Alfonso Mazza, un dato, sei il portiere meno battuto ad oggi del girone, solo dieci gol subiti, una bella soddisfazione questa? Sì, una bella soddisfazione, però non è solo merito mio, perché prima di arrivare in porta ci sono altri dieci compagni di squadra che fanno il loro lavoro e quindi sono molto soddisfatto, perché ho molta fiducia dei ragazzi che ho davanti e quindi speriamo che continuino così questa striscia. Senti Alfonso, sabato arriva la Scea, non è per nulla una gara semplice? No, per nulla, anzi queste sono le partite più difficili, poi conosco pure qualcuno di loro, poi da ragazzi che hanno giocato già, è una squadra molto rognosa, cioè diciamo che la classifica è un po' bugiarda per i punti che hanno, quindi ci aspettiamo una battata, ma come tutte le partite, perché quando fai un campionato lì sopra, a parte te ci sono pure altre squadre che provano a stare lì sopra e poi ci sono squadre come questa qua che andiamo a affrontare, che si devono salvare e ancora devi stare al doppio della concentrazione. Alfonso, è l'ultima andata, è un bilancio positivo il tuo? Sì, positivo, sì, però io ho la mentalità perché non mi piace perdere, però purtroppo nel calcio non si vince sempre, abbiamo fatto qualche passo falso, un po' di merito, però anche un po' di sfortuna, non sono alibi, però posso dire che siamo soddisfatti, però è ancora lungo e noi il nostro obiettivo ce l'abbiamo ben fissato nella mente e ci proviamo fino alla fine.